Si continua a parlare della centrale biogas che dovrebbe sorgere a Città Sant'Angelo. Il Movimento 5 Stelle aveva lanciato nei giorni scorsi l'allarme per le modalità di costruzione di questa centrale. Voi contestate il metodo e non il merito perché avevate detto di essere d'accordo. Si, continua questa attività di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con diversi sindaci dei comuni soci di Ambiente S.P.A. appunto perché quanti più di loro possano prendere coscienza delle problematiche e delle criticità di questo progetto proposto da Ambiente S.P.A. un progetto che abbiamo fortemente contestato appunto non nei suoi contenuti quanto nel metodo perché un impianto che poteva essere realizzato a costo zero per i cittadini accedendo ai fondi del PNRR ed evidentemente insomma questo anche il Comune di Pescara non è stato in grado di farlo. lo si potrebbe realizzare sfruttando completamente gli incentivi statali e quindi realizzarlo e gestirlo in maniera assolutamente pubblica che è quello che chiediamo. Invece Ambiente S.P.A. insiste nel portare avanti questa proposta, questo project financing da 30 milioni di euro che però come abbiamo appunto potuto sollevare e condividere con molti sindaci farebbe gli interessi solo ed esclusivamente del privato a discapito di quelli dei cittadini. Noi auspichiamo che questo fronte comune di sindaci che sta condividendo con noi tutte le criticità e le perplessità su questo progetto possa fare appunto un muro contro questa proposta rispedendola al mittente in maniera definitiva perché per quanto sia condivisibile la necessità che anche la provincia di Pescara abbia un impianto di questo tipo è importante chiaramente condividerne anche le modalità e condividerne il percorso insieme ai cittadini cosa che finora non è stata fatta. Grazie a tutti.